A Forcella ieri mattina un agente del reparto prevenzione crimine Campania, libero dal servizio, nel transitare in corso Umberto I, ha notato una persona che ha spinto con violenza una donna per poi sottrarle il cellulare e darsi alla fuga in direzione di Piazza Calenda. Il poliziotto ha raggiunto l'uomo in via egiziaca a Forcella e non senza difficoltà e con il supporto di una pattuglia del commissariato Vicaria Mercato è riuscito a bloccarlo. Un 27enne di Sala Consilina, infatti, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e resistenza pubblico ufficiale, mentre il cellulare è stato restituito alla vittima.